Dopo che Raiko è riuscito con i suoi pochissimi vandali rivasti a razziare Olbia e a riprendersi leggermente, sono arrivati Budini, nostro mega esercito, e ora devo difenderlo con i miei super unni, la super cavalleria. Siamo in netto vantaggio, lui è dietro con un esercito, e noi qui davanti, almeno le mie truppe, lì è abbastanza stupida contro i cavalli e dovremmo riuscire tranquillamente a farli fuori. Pronto? Io avanzerei prima con gli arcieri. Lug. Lug di connessione, perché altro? Usare frecce infuocate. Via, vado a tiro. Guarda, non sanno da che parte girarsi. Gli abbiamo fregati. Mi ritiro che mi stanno mandando la cavalleria. Il rilaccio della battaglia è dalla nostra parte. Un po' il generale c'è da solo. Guarda, 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 guarda. Sì, è una cavolata girarle. Adesso vengo a darti una mano Un secondo Non devono tirare Scegliere uomini però Il nemico si rifiuta di accettare la sconfitta Ha raggruppato le sue unità I nostri uomini hanno gettato le armi E se la danno a carne K Che stanno circondandolo I nostri uomini sono disperati E se la stanno dando a gatto Cosa sono fatti di ferro? E' normale che le frecce li sciolgano E ho vinto questa Tiratori a cavallo Sono una cosa assurda Get running Runят di moi Run dirtio Run dirtio Barro Show me Come to warri Ah no, io ho detto più di tirare, ops Vengo a tirare sui lanceri Tu stanno... Fanno stagione Vittoria Seguiamoli Eh no, tanto sono già scappati Ah hai ragione, quindi muoiono tutti sei sicuro? Non lo so Eh, guarda che fanno come te poi prima che sei rimasto in mezzo in vita Segui questi se riesci, sei più vicino Eh, disabilita i tiri con l'arco No, ho sbagliato Eh, direi che può... La battaglia che ha funzionato per una volta Se devo unire un po' di unità Finalmente i costi si riducono Sì Sì Yuhuuu Tare integrate Eh, i budini sono scomparsi, ottimo Così non hanno nemmeno il loro avancismo Nei mie confronti Ma non lo so Se lo da... Come malus Alle prossime cose di mattina Torna un po' vicino a me Sì Sto unendo le unità Un gran risparmio Prendi uno Paghi mezzo A... 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 Allora, mi serve Autorità e Astuzia Che in... In pieno stile GDR Ora i comandanti hanno ancora meglio Più evidenziati i bonus e malus Delle loro caratteristiche Sono un sacco di cose Che aggiunge il gioco Gli alberi sono molto più Come dicevamo già la volta scorsa Intriganti, tra virgolette Da esplorare Sono molte combinazioni E... Sotto dalla parte politica Magari poi una puntata sui spiegheremo bene Molte più scelte in più Addizionali Orda Poi la campagna cooperativa C'è da Shogun 2 A... Ecco, integrità dell'Orda Ehm... Dove ci sono le tradizioni C'è scritto Raiko Che noi la cercavamo Obbediente Cambia per turno Sì Integrità devoto E questa Devoto Rado a battle Rado a battle Rado a battle Rado a battle Pronti to battle D'all'altro Ok, terminerei qui la nostra mini puntata.